A Samsung ho ordinato un Galaxy S22, ma mi è arrivato un Note. Mi sa che si sono sbagliati. Benvenuti amici di PantareiNews.com in questo nuovo video in cui andremo a dare una prima occhiata più da vicino al Galaxy S22 Ultra con S Pen integrata e un Note o un dispositivo della serie S. Samsung dice che è la fusione di entrambi. Io ho un'idea un po' diversa. Andiamo a scoprire nel dettaglio questo dispositivo che è il top dei top di gamma Samsung. Su, ammettilo, lo so che non vedi l'ora di scoprire cosa c'è all'interno della confezione del Galaxy S22 Ultra. Eccola con questa S. Il rilievo è nera perché il dispositivo che ho acquistato è nero, di colore nero, ma assume il colore, appunto questa S, assume il colore del dispositivo. Quindi se lo scegli Borgondi sarà appunto di quel colore, se lo scegli Phantom White sarà di quel colore, eccetera. All'interno della confezione troviamo il Galaxy S22 Ultra, ovviamente. Il cavo dati, come vedete, USB di tipo C, USB di tipo C. Quindi nessun alimentatore, se hai un alimentatore che ha un ingresso USB, devi comprare un adattatore. Poi la manualistica, che non vi faccio neanche vedere, insomma, la spilletta. E voilà! Questo è tutto, davvero confezione, molto molto risicata, ma a cui ormai abbiamo fatto un po' l'abitudine. Comunque veniamo a noi, parliamo del Galaxy S22 Ultra e Samsung chiaramente ha seguito questa scelta di Apple di non inserire gli alimentatori all'interno della confezione, quindi dovrai comprartene uno a parte per poterlo caricare, chiaramente se non vuoi utilizzare quello che è in casa, perché non sufficientemente potente per caricare una batteria, quella in dotazione Galaxy S22 Ultra, da 5000 mAh. Batteria da 5000 mAh che vedremo poi quanto dura, questo ovviamente ve lo dirò nella recensione, che tenterò di far arrivare quanto prima possibile. Comunque, non ci perdiamo ulteriormente in chiacchiere, Android 12 monta il dispositivo con la One UI 4.1, la versione software e questa è caratterizzata, questo modello in particolare, da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna. Di questi 128 GB però 22,50 GB sono già occupati dal sistema più le varie app presenti, quali ad esempio le app di Samsung, giusto qualcuna, quelle di Google, anche qui giusto qualcuna, e Microsoft ormai c'è questa collaborazione con Microsoft da diverso tempo, ovviamente Office è un'app a pagamento, e poi altro bloatware come Netflix e poco altro. Se mi state chiedendo dove ho trovato questo fantastico live wallpaper, questo wallpaper animato, ve lo dico subito perché io non ho segreti, potete scaricare questa fantastica app che si chiama Live Loop, lo trovate ovviamente sul Play Store, è gratuita da alcuni, come dire, le chiama, diciamo, delle sorte di chiavi, un certo tot di chiavi con cui poter sbloccare, ad esempio questo wallpaper costa 5 chiavi, alcuni wallpaper e poi ovviamente bisogna sganciare i dindini, i soldini. Comunque fantastico questo wallpaper. Torniamo al Galaxy S22 Ultra, dicevo 828 GB, in questa versione esistono anche le versioni da 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria interna e poi la versione, quella più costosa, da oltre 1600 euro, per la precisione 1689 euro, da 12 GB di RAM e 1 TB di memoria interna. È un dispositivo dual SIM, non è ibrido, dual SIM nano, dicevo non è ibrido, quindi non è possibile espandere la memoria tramite microSD, per cui se avete necessità di spazio abbondante è meglio optare per dispositivi con una maggior quantità di memoria interna. Display, display sicuramente uno dei punti di forza dei dispositivi Samsung sono i display, Samsung produce praticamente i display AMOLED di quasi, se non tutti, quasi tutti i dispositivi presenti sul pianeta Terra, Apple compresa, e quindi gioca in casa. display dual age, QHD+, anche se è impostato in Full HD+, di default, con una diagonale da 6,8 pollici. Ecco, già qui voglio dire una cosa, ho notato una notevole differenza rispetto al Galaxy S21 Ultra, ora può sembrare quasi una sciocchezza, ma la nuova configurazione della fotocamera, se ricordate quella del Galaxy S21 Ultra, era decisamente più abbondante, per dire, usavo un eufemismo, dicevo, secondo me rende il dispositivo molto più equilibrato e quando lo si prende in mano per la prima volta, questo equilibrio lo si nota. Io ricordavo la caratteristica del Note 21 Ultra che mi ha colpito immediatamente, era proprio questo peso, soprattutto eccessivo, in avanti, in alto. e in avanti nel senso che tendeva a spostare, a ruotare verso la parte più pesante appunto dove è presente la fotocamera. Su questo dispositivo invece sembra quasi che il dispositivo sia più leggero, in realtà invece il peso è esattamente lo stesso. 229 grammi. Le dimensioni sono un po' variate rispetto al Galaxy S21 Ultra, ma veramente parliamo di pochi millimetri. Abbiamo bordi arrotondati, come detto, ma abbiamo anche dei bordi sui lati più lunghi. Poi sui lati più corti abbiamo questi bordi abbastanza doppi, spessi, che ricordano in tutto e per tutto la serie Note di cui tra poco vi parlerò perché secondo me ci sono dei punti da chiarire. Comunque, fotocamere, stiamo parlando di fotocamere, continuiamo a parlarne. Fotocamere anteriore da 40 megapixel, esattamente lo stesso sensore presente sul Galaxy S21 Ultra, almeno per quanto riguarda i megapixel. Nella parte posteriore troviamo invece una fotocamera doppia, due teleobiettivi da 10 megapixel, una da 12 megapixel e una super fotocamera, un grandangolare da 108 megapixel. Ho fatto già qualche scatto, ho realizzato già qualche scatto, devo ancora fare realizzare video. Le immagini, vi dico già, sono... sono. Sono un bel... belle immagini. Poi chiaramente nella recensione vi parlerò di sicuramente in dettaglio del comparto fotografico, ma secondo me veramente top. Processore Exynos 2002, si parlava tanto del processore che sarebbe arrivato anche in Europa, in Italia compresa, con lo Snapdragon 8 di prima generazione. No. Processore Exynos 2200, quindi non c'è nulla da fare. Abbiamo detto batteria da 5.000 mAh, supporta la ricarica rapida fino a 45 W, ricarica rapida, cablata, cioè tramite filo, e consente di effettuare anche la ricarica wireless con potenza fino a 15 W. Dotato poi naturalmente di tutte le caratteristiche di connettività possibili e immaginabili, come il Wi-Fi 6e, 5G, Bluetooth 5.2, insomma accelerometro, barometro, giroscopio, sensore di impronte digitali, sensore di prossimità, chi più ne ha più ne metta. Sensore di impronte digitali che funziona, direi, alquanto bene. Come vedete non c'è neanche bisogno di andare a cliccare per far comparire l'icona del sensore, basta posizionare il dito ovviamente all'incirca nella posizione giusta del sensore di impronte digitali e il dispositivo si sblocca e si attiva in automatico praticamente all'istante. Beh, è un Galaxy S22 Ultra diciamo che ci aspettiamo che non regala grosse sorprese nel senso che ci aspettiamo di avere a che fare con un top tra i top ed è così effettivamente. Ovviamente ho lasciato per ultima la cosa più succulenta almeno per quanto riguarda i fan della serie Note è la S Pen che nelle ultime versioni, non del Galaxy S21 Ultra ma del Note, si estraeva con un click. Avviene la stessa cosa anche con il Galaxy S22 Ultra. Come vedete abbiamo qui il software tipico, software dei dispositivi Note che ritroviamo sul Galaxy S22 Ultra. Anche di questo poi ne andrò a parlare meglio e più in dettaglio. Magari anche con un video esclusivo, diciamo così, relativa alla S Pen, le sue funzioni e come utilizzarle e cosa è possibile farci. Dunque, se acquisti un Galaxy S22 Ultra, in realtà acquisti un Galaxy Note per rispondere a questa domanda bisogna fare una premessa, ovvero bisogna spiegare qual è stata l'evoluzione che ha portato a questo dispositivo. Samsung un paio di anni fa ha lanciato una nuova serie di smartphone, quelli pieghevoli. Prima il Fold, poi è arrivato il Flip 3. A proposito, ha eliminato la Z perché fino a poco tempo fa si chiamavano Z Flip 3 e Z Fold 3, in realtà la Z è stata eliminata per le questioni di politica internazionale che purtroppo tutti con ben conosciamo. Comunque, dicevo, ha lanciato qualche anno fa i dispositivi pieghevoli che stanno prendendo sempre più piede e ora, forse inizialmente l'azienda sudcoreana aveva pensato di sostituire appunto i Note con questi dispositivi. infatti il lancio del Galaxy Fold e dei Flip avviene nel periodo in cui in genere venivano lanciati i Note diciamo più o meno all'incirca, più o meno tra agosto e settembre. Quindi si trovava con questa nuova linea di dispositivi che andava poi a cozzare diciamo così con la serie Note. Cioè, non poteva chiaramente presentare nello stesso momento due top di gamma, perché stiamo parlando di Fold che è di pieghevoli che costano una barca di soldi e di top di gamma come il Note che comunque non è che scherzano anche da questo punto di vista. E quindi, secondo me, si è trovata in bilico e non sapendo cosa scegliere chiaramente ha preferito l'innovazione cioè i dispositivi pieghevoli. Però, credo, queste sono tutte mie supposizioni, però credo, visto anche l'andamento di cui adesso vi spiego, vi racconterò, credo che sia andata così. Secondo me Samsung poi si è resa conto che comunque c'è stato del malumore da parte dei fan della serie perché comunque che piaccia o meno la serie Note io sono uno di quelli a cui piaceva tanto era un dispositivo che molte volte si è dimostrato anche superiore ai top dei Galaxy S perché arrivando dopo poteva godere seppur con lo stesso hardware poteva godere delle ottimizzazioni software e hardware che erano state già attuate sui Galaxy S che invece arrivavano sul mercato e dovevano avere sempre come avviene tuttora tra l'altro sempre qualche piccolo aggiustamento a livello software infatti il Galaxy S 22 Ultra è stato aggiornato appena l'acceso si notava qualche problemino anche a livello di lag aggiornato poi immediatamente e con un bel corposo aggiornamento ci sono stati dei notevoli miglioramenti dicevo quindi evidentemente hanno sentito il malumore insomma dicevo di dei fan della serie e quindi hanno pensato di integrarla nella serie Galaxy S che presenta generalmente nel mese di febbraio più o meno ora che cosa è successo che si sono resi conto forse che per fare questo passaggio magari un passaggio immediato non era proprio nelle corde dell'azienda sudcoreana che in genere tenta a fare i tentativi prima lanciando dei dispositivi se vi ricordate ad esempio parlando sempre di note il Galaxy Note Age è stato il primo dispositivo in assoluto con il bordo pieghevole era solo un lato pieghevole il bordo arrotondato solo un lato era arrotondato e andò abbastanza bene cioè videro che comunque il dispositivo piaceva e quindi lanciarono poi gli schermi con Dual Age che hanno preso piede ormai sono diventate una consuetudine non solo per Samsung la stessa cosa secondo me è venuta con il Galaxy chiamiamolo S22 Ultra con il Note nel senso che l'anno scorso hanno lanciato l'S21 Ultra che aveva solo la compatibilità con la S Pen non c'era la possibilità di inserirla all'interno del telaio come avviene adesso con il Galaxy S22 Ultra e anche a livello software era una sorta di ibrido a metà tra Galaxy S e Galaxy Note con il Galaxy S22 Ultra invece il Samsung ha fatto il passo definitivo questo è un Galaxy Note è quello non è un Galaxy S diciamo che più che Samsung nella presentazione del dispositivo ha detto che ha fuso le qualità di entrambi i dispositivi no è un Galaxy Note a tutti gli effetti c'ha la S Pen inserita nel dispositivo il software completo tipico di tutti i Note ha le caratteristiche top tipiche di tutti i Note e ha anche il design tipico di tutti i Note perché se andate a vedere il design del Galaxy Note 10 Plus o 10-10 Plus e del Galaxy Note 20 diciamo che la fotocamera posteriore e il design sono un po' la fusione di quei due dispositivi chiaramente poi affinati e modernizzati rispetto all'anno in cui ci troviamo è chiaro a me per me questo è un Galaxy Note poi vabbè chiamiamolo Galaxy S22 Ultra è la stessa cosa il fatto sta che è davvero un dispositivo niente male ma di questo ne parlerò nella recensione mi raccomando non ti perdere gli altri video che stanno per arrivare a giorni naturalmente sul Galaxy S22 Ultra andiamo a vedere quanto tempo impiega per ricaricare la batteria dallo 0 al 100% andremo a effettuare la recensione poi a vedere i test video riesce come abbiamo detto nel primo contatto in questo video riesce a consente di effettuare video anche in con risoluzioni in 8K oltre a 4K a 30-60 fotogrammi per secondo per scoprire tutto questo e poi come personalizzare il Galaxy S22 Ultra quindi scoprire ogni piccolo meandro delle impostazioni ogni funzione possibile immaginabile non ti perdere i prossimi video quindi iscrivetevi al canale clicca sulla campanellina per non perdere le notifiche dei video che stanno per arrivare e iscrivetevi anche agli altri social trovi nella linea di iscrizione del video anche il canale Telegram per le offerte ciao e alla prossima